per tutti ragazzi che sono in questo nuovo video di brawl stars e come potete vedere oggi non sono su brawl stars perché è lunedì è un giorno come gli altri no perché chi chi gioca da un bel po di tempo su brawl stars sa che cosa succede lunedì molti che vedono anche altri youtuber giocare che sanno che cosa succede lunedì bene c'è il fine stagione e pensate ragazzi che ho portato veramente molti verso i 20 25 brawler a 550 copp quindi oggi appena torneremo ma dovrà succedere il video comunque prima di tutto lasciate un bel paligio in su raggiungiamo i 5 mi piace oggi mi tengo basso un 5 mi piace ragazzi perché quando raggiungeremo 5 mi piace comincerò a portare quel gioco lì che si chiama among us ragazzi ragazzi adesso ci tocca entrare no regà non voglio entrare no regà non mi fate entrare regà non mi fate entrare per favore non mi parla con il suo perfetto ma no 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 non voglio entrare non voglio entrare non voglio entrare non mi fate entrare per favore ok ragazzi no 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 noTheny Mento relief Filippo ρηstart Quanti rapporti 1.800 1.800 Allora, se vedete che Ho tagliato il video Perché io da persona molto intelligente E l'ho entrato sul secondo account Che magari tra qualche giorno vi Mostrerò, forse no No, dobbiamo fare una Ha fatto una crisi Guardate quanti, una crisi Allora, contiamo quanti sono Pam, Beryl Poggio, Shelly 2.23, 24, 25 Brawler A 5.53, tranne i dynamic che l'ho portato A 600 coppe 3, 2, 1, no, 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 coppe no Coppe no, coppe no Coppe no 4560 No, vabbè No, raga, siamo morti Prendiamo pure questo qua Scusate, me l'avevo dimenticato Raga, mi hanno tolto 800 coppe Cioè, ve lo dico Pensavo peggio Però, da 17.852 A 17.057 Abbasso un po' il volume Perché se no si sente troppo forte Però ragazzi, no, stavo scherzando È soltanto per farvi vedere questa cosa Che segreti da dove troveremo Ambro Chetmo Troviamo veramente Ambro Vediamo Non è vero Vabbè dai Energetic Bombardino Magari avremmo trovato Ambro Allora Per farvi capire un po' la mia situazione Sono passati, bene Quasi otto giorni E sono alla soglia numero 18 Allora, per farvi capire la situazione Ragazzi La situazione è questa qui Faccio un po' vedere Le soglie che ho sbloccato Quindi sono arrivato alla 18 E pensate che siamo quasi Alla soglia numero 20 Ragazzi Siamo quasi alla soglia numero 20 Voi, penso che chi ha visto lo scorso video Sappia già Di quello che sto parlando Questo video Se tu lo scorso video non hai visto Allora, finisci a vedere questo video E poi vai a vedere l'altro Perché in caso non capisci qualche cosa Allora è possibile che Magari ti farà altri chiarimenti Quel video che ho fatto Però ragazzi Siamo vicini alla soglia numero 20 E per chi lo sa Quando arriverò alla soglia numero 30 Farò un mega box opening Come potete vedere ragazzi Mi sono tenuto tutte queste casse Tranne Dynamite Facchino Che è l'unica skin di Dynamite Finalmente che potevo riscattare Perciò l'ho riscattata ragazzi E logicamente ragazzi Facciamo questo ragazzi Facciamo questo Quindi Allora Per Per In caso qualcuno non ha ancora capito bene Lo spiego meglio Arriveremo Io e Hand Io e Hand Senza Hand I video di ProStars Non li faccio Non è questo Che lui Sta a scuola Sta studiando Mentre ho finito Le video lezioni Allora ragazzi Allora Allora ragazzi Quindi appena arriverò All low Faremo un mega box opening And si sta tenendo Soltanto La parte La parte pass Quindi la parte di sopra Quella gratuita Lui si sta prendendo Io per fare un box opening Un po' più grande Voglio fare Così ragazzi No comunque Regà A parte tutto Ma veramente Non ci sto ancora credendo Perché ho portato Tutti sti brawler Io Cioè Ma voi ci credete Ma questo tanto Wow E tra poco avrò anche low Quindi Vabbè ragazzi Scusate se vi ho tenuto Andiamo Andiamo Ok ragazzi Siamo con una certa piper Allora Scusate se Allora A volte è possibile Che sentiate l'audio Un po' strano Perché ho purtroppo Il microfono Sulla mano destra Non ci posso fare niente Se no Avrei cambiato Il posto del micro Il microfono Però ragazzi Allora 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 Vi parlo un po' Della situazione Among Us Io di solito Parlo di molte cose Di solito In video Però di cose Comunque che devono uscire Sul canale di youtube Non parlo di cose mie Logicamente Chi è così Scemmo da fare Sentire le cose sue Sul canale di youtube Almeno che non è una cosa importante Nulla contro quelli Che dicono Le cose youtube Non ho nulla contro Anzi Sono molto Sono molto coraggioso A dirle Allora ragazzi Per la situazione Among Us Sto cercando I player Per giocare Ce n'ho già uno Che Chi potrebbe essere Se no And And Tu parteciparai ai nostri video Di Among Us Come sempre Farvi capire I video di Among Us Dovrebbero uscire Settimana prossima Già dovrei Dovrei cominciare A portare Alcuni video Di Among Us Io Perfetto Io comunque Sono sempre molto Un pro player Ma Allora Allora Intendiamo Portare un video Se tutto andrà bene È strano Ma se tutto andrà bene Ragazzi Dovrei portare Due video a settimana Uno Mamma mia Mamma mia Toglietevi tutti Toglietevi tutti Allora ragazzi Ora che siamo un po' più calmi Abbiamo fatto già due kill Molto buono Allora ragazzi Quindi Porterò Possibilmente Brawl Stars Dovrebbe uscire martedì E Among Us Venerdì Come mai Vi state chiedendo Buonissimo Allora ragazzi Vi state chiedendo Come mai Questa cosa E non Diversamente Magari Among Us Martedì Venerdì Brawl Stars Bene Ve lo spiego Come avete potuto vedere Ragazzi Allora Come avete potuto vedere Questo qua È un video Ragazzi Su Va bene Mentre che noi moriamo Ragazzi Questo qua È un video Sul reset Di Coppe Mentre là c'è una mosca Che mi fa tanta compagnia Ogni giorno Grazie mosca Ragazzi Mentre soglia Numero 19 È raggiunta E quindi ragazzi Vi sto dicendo Porto Brawl Stars Perché comunque Come vedete In questo video Lo sto registrando Di lunedì Ma uscirà martedì Però proprio perché C'è il reset O martedì O lunedì Non lo so Comunque c'è il reset Di Coppe Appunto per questo Sto decidendo Di farlo Martedì Mentre venerdì Ragazzi Mi sembra Un giorno migliore Perché comunque Among Us Penso che sia Non dico che è più divertente Di Brawl Stars Anzi Brawl Stars È il mio gioco preferito Però ragazzi Sto dicendo Che comunque Infatti ragazzi Nei momenti di weekend Possiamo registrare Among Us Che comunque Brawl Stars Mi serve soltanto And Per esempio Parliamo Soltanto And Among Us Magari non lo voglio fare Con persone inglesi Che non conoscono Neanche Devo scrivere Where Is you Non lo so Ragazzi E appunto Per questo Lo decido Di portare Venerdì Ok ragazzi Io spero Di essermi Chiarito Ragazzi Nel mentre Soglia 19 Raggiunta Il cuore Devo farmi Le emissioni Sono veramente Grandissimo Infatti Oggi Se tutto va bene Arrivo pure Allo solito numero 20 Ragazzi Prossimo video Di Brawl Stars Logicamente Settimana prossima Ragazzi Prima del 15 Ci dovrebbe essere Il box opening Perciò mi raccomando Tenete Tenetevi attivissimi Ragazzi Perché O lo faremo in live O lo faremo in video Corante Penso in live però Perché comunque È più È più bello Ragazzi Ci divertiamo di più Beh ragazzi Io penso di averli Puro in trattenuto dopo Mi dispiace Se vi ho intrattenuto troppo Però Era per spiegare La mia situazione Su Youtube E dei video che porterò Su Brossal Samongaz Io spero che il video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Come sempre A un prossimissimo video Bella